Sleem4Bit è un prodotto naturale al 100% che funziona alla grande con uomini e donne di ogni età. Riduce la sensazione di fame, brucia grassi e migliora il metabolismo. In confronto ad esercizi fisici quotidiani e all'assunzione di diete diverse, Sleem4Bit non delibiterà il vostro organismo, in quanto Sleem4Bit contiene solo prodotti naturali che non creano stress per il tuo organismo e non richiedono una grande attività fisica per farlo funzionare. Si consiglia di assumere una capsula di Sleem4Bit tre volte al giorno e vedrai i primi risultati già dopo aver preso alcuni flaconi di Sleem4Bit. Per ottenere i risultati migliori ti consiglio di usarlo alcuni mesi consecutivamente. In questo modo sono garantiti ottimi risultati. Applichiamo sconti davvero speciali con l'acquisto di Sleem4Bit. Vi preghiamo di compilare il modulo per ottenere una consulenza gratuita o per effettuare un ordine. Il nostro specialista ti contatterà nel momento a te più congeniale e ti aiuterà a scegliere il trattamento più adatto alle tue esigenze. Grazie. Grazie.